Gara 2 di questo weekend del mini challenge sul circuito di Misano Adriatico si parte con un primo colpo di scena perché dalla pole position avrebbe dovuto prendere il via Andrea Nember che si è piazzato sesto nella gara di ieri invece un problema tecnico lo costringe a partire dall'ultima posizione in griglia e va subito al comando Simone Iaquinta poi vedete protagonista di qualche errore di qualche sbavatura si crea comunque un bel gruppo compatto nelle prime fasi con intanto vedete la rimonta di Andrea Nember qui abbiamo l'uscita invece della vettura che ieri aveva conquistato la vittoria e c'è Maurizio Losi alla guida purtroppo ritiro per lui lotta qui che mette fuori scena per qui perde qualche posizione Simone Iaquinta davanti c'è un ottimo Filippo Maria Zanin con Alcidi in seconda posizione qui Iaquinta perde diversi piazzamenti ultime fasi Nember in rimonta vedete protagonista di un dritto riesce a riprendere la sua mini questa invece è l'uscita che metterà definitivamente fuori scena Iaquinta purtroppo da segnalare tra l'altro anche l'uscita di Alex De Angelis che era una wild card e che ha dovuto dare forfè vince quindi con un ottimo margine di vantaggio Filippo Maria Zanin che vedete sul gradino più alto del podio con Alcidi in seconda posizione e Tobia Zarpellone sul terzo gradino grazie a tutti